Ma quello che conta sono le basi, e le basi non cambiano mai, sono i fondamentali. Nei suoi corsi spazia dalla pasticceria di base, lievitata, da forno, classica e moderna, passando per il mondo della pasticceria salata e della panificazione, fino a spiegare chiaramente i bilanciamenti di pasticceria. Signori, lui è Andrea Di Giglio. Io ti aspetto in Academy, ci vediamo dentro. Consulta il sito www.andreadiglio.it Iscriviti al canale, clicca sulla campanella e accedi ora in Academy. Trovi tutto nel link in descrizione. Infatti, nella mia Academy aiuto appassionati, aspiranti pasticceri, professionisti e titolari di attività a diventare molto più abili in pasticceria attraverso, infatti, questi videocorsi, vari libri, consulenze. Ma infatti in questo video ti voglio parlare del nuovo libro di pasticceria Bilanciami, ovvero un libro che racchiude tantissime informazioni sulla pasticceria per andare a capire le basi della pasticceria, mandando a fondo delle cose, senza limitarsi a scopiazzare ricette, ma andando a capire i ragionamenti che creano una ricetta. Qui sotto ti lascio il link già per poterlo acquistare e ricordati che con l'acquisto del libro Bilanciami riceverai anche la gestione del Libitomà del temperaggio del cioccolato. Questo libro è in assoluto il libro che ha aiutato più di tutti appassionati, aspiranti pasticceri, professionisti e titolari di attività, perché questo libro è il libro che ti permette di diventare veramente capace come un pasticcere e di capire le cose a fondo. Sai, molti si limitano a copiare ricette, food blogger, youtuber, prendono una ricetta uno dall'altro e la fanno. In questo libro capirai i ragionamenti che crea una ricetta, perché devi sapere che la pasticceria è un insieme di ragionamenti, non è un insieme di ricette. La pasticceria non è un ricettario, ma la pasticceria si basa sulla gestione dell'acqua libera, si basa su tantissimi fattori, no? Quindi all'interno di questo libro capiremo le bilanciature, capiremo le funzioni e ingredienti, quindi capiremo veramente a fondo. È un libro digitale, ok? Io ce l'ho qui, al link lo trovi qui sotto, quindi una volta che lo acquisti potrai scaricarlo e il libro bilanciami è digitale, quindi vedi, lo puoi vedere tranquillamente dal tuo cellulare, dal pc, dallo smartphone, e tranquillamente lo puoi scaricare. Se ti piace cartaccio, ovviamente lo puoi stampare anche in copisteria. All'interno di questo libro troverai le classi delle farine, il bilanciamento della pasta frolla, quindi capire il bilanciamento della pasta frolla, il bilanciamento delle creme, la crema pasticcera, tutte le creme derivate, le creme composte, il bilanciamento dei semi freddi, il bilanciamento dei piccoli lievitati, il bilanciamento dei grandi lievitati, la gestione del lievito madre, il temperaggio del cioccolato, il bilanciamento della pataschoux, della pasta sfoglia, delle masse montate, il bilanciamento dei cake. Insomma, questo libro veramente ti fa capire a fondo le cose, non solo per limitarsi come al solito a prendere dei ricettari, ma per capire a fondo. Infatti, in questo libro tu potrai capire veramente i ragionamenti. Ho impiegato anni, anni, per arrivare a ottenere un libro di questo tipo, e ho impiegato mesi e mesi per scriverlo e correggerlo. All'interno ci sono delle tabelle, all'interno ci sono ovviamente le bilanciature scritte anche in modo discorsivo, in modo tale che tu puoi seguirmi con i ragionamenti. Troverai il focus sugli ingredienti. Ad esempio, adesso sto scorrendo sulla frolla, troverai anche le varie tabelle sulla bilanciatura della frolla, le proporzioni per farti capire come creare la frolla anche che la vuoi tu. Ovviamente, questo è il libro. Ho anche il corso sui bilanciamenti, ti lascio anche il link qui sotto del corso ai bilanciamenti. Ovviamente, il corso ai bilanciamenti è per chi vuole veramente capire a fondo delle cose, per chi non si vuole limitare, come al solito, a copiare ricette, il corso dei bilanciamenti è quello in assoluto per diventare bravo come un pasticcere professionista. Il libro, diciamo, come posso dire, è sicuramente una valida scelta, ma il corso capirai che è tutta un'altra cosa. Il corso all'interno ha 110 video lezioni, non so quante ore di formazione, trovi tutto nel link in descrizione, è un corso mastodontico, ok? E ovviamente, guardandomi la lavagna, fare tanta lavagna, capire le cose a fondo, è tutta un'altra cosa che avere solo un libro, no? Lo capirai da te. Per esempio, se andiamo sulla bilanciatura della pasta frolla, ho detto, si capiranno molti ragionamenti, perché l'ho spiegato anche in maniera discorsiva. Ci saranno le varie bilanciature delle creme di base, creme derivate, creme composte, e anche tante ricette, perché ovviamente tante sono anche ricette, no? Quindi avrai anche ricette infallibili, che uso io da anni. All'interno del libro, ad esempio le mousse, vedi le creme derivate, abbiamo la pasta sfoglia, la bilanciatura sulla pasta sfoglia, bilanciatura sui ingredienti, bilanciatura sul procedimento, e ti farò capire tanto anche sulle pieghe, il calcolo delle pieghe, no? La stratificazione, bilanciamento delle masse montate. Quando si parla di masse montate, si parla di panni spagna, si parla di biscui, si parla di dacquaz, si parla di frangipane, si parla di meringhe. E quindi scoprirai tutto sulle varie bilanciature, no? All'interno del libro, sto scorrendo proprio affinché tu capisca cosa c'è dentro, troverai anche bilanciamento di base dei cake. Quindi come si bilancia un cake? Cake piatto, cake bombato. All'interno troverai quindi la massa pesante, la massa leggera, come si bilancia un cake. Ovviamente questo libro è veramente il concentrato della mia esperienza, e ho cercato di renderlo più schematico possibile, più semplice possibile. Non mi sono dilungato in tecnicismi inutili, ma ho condensato quello che ti serve, ok? Come il mio modo classico di spiegare, cioè non ho complicato le cose, ma le ho semplificate, ok? All'interno di questo libro troverai il bilanciamento dei semifreddi, i parfait, i biscui glacé, quindi anche le differenze, come si calcolano gli zuccheri all'interno di una ricetta, no? All'interno di questo libro troverai anche, ah, una bellissima, ho fatto tante tabelle sui lievitati, quindi troverai tutte le tabelle per poter creare i tuoi lievitati, sfogliati e non sfogliati. E ci sono tante tabelle per capire a fondo le cose, e ovviamente ci sono anche i ragionamenti, e le percentuali di idratazione per creare il tuo lievitato, e anche il tuo panettone. Infatti dopo ci abbiamo anche la bilanciatura del panettone, e tante cose che ho capito anch'io, quindi è anche molto discorsivo, ti faccio capire delle cose che io ho capito negli anni. Questo libro è frutto di innumerevoli test, è frutto di studio, è frutto di ricerca, ok? Non sono cose campate per aria. All'interno di questo libro troverai, vabbè, la pasta colorata, i vari cornetti, i vari croissant, eccetera, eccetera, e troverai anche il bonus gestione del lievito madre. Sulla gestione del lievito madre è veramente un argomento molto complesso, ho cercato di spiegarlo in maniera semplice, affinché tu possa capire la gestione del lievito madre. Ovviamente, come ti ho già detto, questo è un libro, il corso lo capirai molto meglio, perché ci sono delle lezioni anche inedite. Però tutti quanti i lieviti, no? Le percentuali di acqua, varie temperature, insomma, c'è scritto tutto bene su come gestire il lievito. La bilanciatura dei piccoli e dei grandi lievitati, come ho detto prima, la mia ricetta del panettone, e il temperaggio del cioccolato. All'interno del libro, ovviamente, troverai anche tutti i link per accedere volendo ai miei corsi, e acquistando il libro, all'interno abbiamo messo anche un regalo, ma che non ti dirò, lo scoprirai solo acquistando il libro. All'interno abbiamo messo anche un regalo, ma non te lo posso dire. Devi acquistare il libro e allora troverai il regalo e poi capirai di cosa si tratta. Ad ogni modo, questo libro è veramente frutto di tantissimo studio, tantissimi anni di lavoro, tanti test, innumerevoli test andati bene, andati male per capire le cose, ok? Quindi, qui dentro c'è il condensato della mia esperienza, ok? E come ti ho detto, qui sotto ti lascio il link per acquistarlo direttamente, all'interno c'è anche un regalo che abbiamo messo per te, e devi sapere che però c'è il corso. Ovviamente, se il libro, se è una persona che non vuole mettersi lì a guardare il libro, vuole capire veramente in fretta le cose con dei video che io spiego, c'è il corso, ti metto anche il link del corso, così lo puoi acquistare tranquillamente. Ricordati che nel corso è anche la mia assistenza, quindi se non capisci qualcosa, sotto, all'interno della piattaforma studio, mi puoi parlare, mi puoi scrivere, io ti risponderò per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità. Ad ogni modo, questo video è per dirti che c'è il mio nuovo libro Bilanciami. Io non ho mai trovato un libro del genere, quindi è in assoluto un libro, direi, innovativo, anche se parla di basi immortali, queste sono basi immortali della pasticceria, ok? Perché in pasticceria, diciamo che le basi non cambiano mai. Quello che cambiano, poi si possono fare ricette creative, ma le basi non cambiano mai, ok? Quindi questo libro di basi, spiegando però come si creano le basi, come creare le tue ricette, andando a fondo delle cose. Questo libro l'avrei voluto io in passato, ok? In pasticceria vedi in tantissimi siti, anche in tantissimi, diciamo, shop online, puoi trovare tanti libri, ok? Però qual è il problema? Che la maggior parte sono ricettari, ricette creative, ricette di maestri, ma sono ricette. Questo non è un libro solo di ricette, anche se hai dentro innumerevoli ricette. Questo libro di ricette, ma con spiegazione del perché delle cose, quindi andando a fondo delle cose, ok? Che è un libro molto più tecnico, ma spiegato sempre in maniera semplice. Abbiamo già tantissimi appassionati, aspiranti pasticceri e professionisti che l'hanno acquistato, mi mandano delle mail che sono contentissimi di questo libro. Abbiamo anche poi fatto delle migliorie, ovviamente, prendendo spunti anche da quello che ci arriva come feedback di questo libro. Abbiamo migliorato molto anche la parte degli evitati, abbiamo migliorato anche la parte delle creme, quindi ovviamente è un libro che ha un valore veramente immenso, ha un valore veramente immenso. Ad ogni modo, sappi che questo libro si chiama Bilanciami, lo trovi solo ed esclusivamente qui sotto, quindi qui sotto, sotto il video, va in descrizione, clicca sul link di Bilanciami, puoi acquistarlo e sotto ti lascio anche il link del corso. Il corso ovviamente è tutta un'altra cosa, no? Il corso è l'apoteosi, il corso è veramente fare un salto di qualità. Non esiste, io penso al mondo, un corso come quello che ho creato io dei bilanciamenti. È assolutamente innovativo perché racchiude i ragionamenti delle principali basi di pasticceria e molto di più. tanta lavagna, tanto laboratorio, tanto studio ed è tutto condensato all'interno del corso. Il corso, probabilmente, è il corso più completo al mondo sulle bilanciature di pasticceria di base e le ricette e mi vedi all'opera, quindi capirai tutto su quello che serve veramente in pasticceria. Perché le basi non cambiano mai, ok? Poi possiamo fare mille ricette creative, ma quello che conta sono le basi e le basi non cambiano mai, sono i fondamentali, ok? Ad ogni modo, io ti saluto, qui sotto ti lascio il link, acquista il libro o acquista il corso, ci vediamo in Academy. Ciao!